buongiorno signora e oggi è una magnifica giornata non crede infatti sono qui ad annunciarvi che il progresso è finalmente arrivato anche nella vostra ridente cittadina ora mi lascio solo un paio di minuti del suo tempo per introdurvi al rivoluzionario servizio postale sono trascorsi 176 giorni ormai 176 giorni da quando sono arrivato in questo posto freddo sperduto e dimenticato da dio si vede subito che lei è un tipo davvero sveglio sono qui per non tutto quello che dovrei fare dicevano è pubblicizzare il servizio postale tornare a casa come l'eroe vincitore un gioco da ragazza ma che abbiamo qui dimmi piccina mamma in casa quello che non mi avevano detto era che il concetto di servizio postale era totalmente estraneo a quegli zotici barbari senza civile a buona se mi ascolti solo non quindi eccomi qui intrappolato in questa sperduta cittadina per sempre senza più alcuna speranza mi serve mi serve qualcosa di grosso un miracolo qualcosa di incredibile che spinga questa gente a iniziare a scrivere lettere c'è nessuno e alla fine il miracolo sarebbe arrivato davvero grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti